domani ci sono i colloqui si si vero la mamma di luca me l'ha detto che ci sono i colloqui domani tu non me l'hai detto non me l'hai detto mica te lo volevo dire ma come stai andando a scuola bene come stai andando bene 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 non mi vorrei per fare la figura della scema come ogni anno che vado lì a sentire tutte le lamentane dei professori e io come una scema lì che ascolto come ogni volta e ci faccio la figura della scema io ti sto avvisando io ti sto proprio avvisando voglio proprio vedere se te la faccio volare la playstation guardate sono di nuovo finiti cotton fiocche dov'è lui dove si nascono sto? dove è andato? io non ho fatto niente la figura della deficiente mi hai fatto fare come ogni volta dove sei? dove sei? se te la faccio pagare te la faccio dove sei? dove sei? sono un giubbotto sono un giubbotto sono un giubbotto